io provo a scendere vediamo se la usa questo e droppa lì la davanti cosa del gesto come si usa che spavento che ti giuro che cazzo di spavento di merda sento un passo mi giro e c'è un altro ma che cazzo dove vai in realtà è fede che ha gioinato c'è un altro ma che cazzo che bello quanti cazzo di mimiche devono essere vabbè andiamo ma tu contro cosa sei morto? nel tentativo di zappare il campere e salvare Ale ho zappato Ale e nel tentativo di staccare il cavo la cosa è quella non devi avere nessuna cosa guarda che l'hai chiamata nooo non deve esserci né dice Hany puoi correre ah c'era così tanta roba c'era così tanta roba c'era anche così degli oggetti c'era c'era Bazzi che ha detto ma di perchè dobbiamo stare z e sono solo le due me lo son meritata si me lo son decisamente meritata ma te che fai perchè è offence? te lo dico sempre su offence ma non ho primo come cazzo esco ma? ah vuoi andare dentro? eh ma più che altro si è messo in un angolino sono i cani forse eh no 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 più cazzo si è incastrato in un angolino boh spero ho commesso il blunder grosso che per liberare l'asta dagli altri mi sono incastrato in un angolo col coil pensando di poter girare e non si poteva ma il cane è dentro la zucca? oh ah squini si sto vedendo sto vedendo c'è il cane nella zucca no vabbè il cane nella zucca il cane che sta dentro la zucca guarda il cane zucca ho messo il cane nella zucca smoderato tra le zuccone ho messo il cane nella zucca il cane nella zucca il cane con la zucca in testa il cane con la zucca in testa il cane con la zucca in testa vabbè mi fremo il tasto per clipare boh ho sbagliato no no mi hai mangiato il cane intanto era persa è stato bello oh oh è stato molto misto oh 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 Sì, sono un spuntale, sono un spuntale Cos'è, ragazzi? Molto buffo Addio Muori te da scala Dov'è? Io stavo suonando Ok, sono morto da che non la sta a sconare Non mi agra, non mi agra Tipi, 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 tipi Dove cazzo sei? Tipi, 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 tipi Eh, bravi, porco dio Eh, ehm Stavo tipiando e qualcuno non ha prenduto il bottone Mi orp said Cane L'hai preso? Sì E' figo se riusciamo a usarli per incastrare i cani Oh Non incastriamo lì nella porta No, ma infatti io li metto nell'armadio Puoi? Ecco? Ehm, sì Oh! Che ti vedo? Sì, sono messa! Lo vedete anche voi? Lo vedete anche voi? Cosa? No, stai fermo, stai fermo un secondo, gira Stai fermo Eccoci qua Vabbè che? Che coglione Aspetta ma fa un rumore buffo Scusami Non so se lo... mi spiagge Oh, po certo Tsio Vabbè Vabbè Di qua c'è Oddio No, no NO, NO NO, 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 BAMBIO non c'è niente qui vado io vado io vado io se morì vi faceva di un ridere no ho sbagliato sono scemo perché ho passato tutto il tempo a dire una alla volta e poi ho saltato ho effettivamente ucciso io è colpa mia non spingermi si è morto l'avete lanciato di una cosa che cazzo l'ha spinto chi l'ha spinto non lo so magari è davvero morto chi è se lo lanci giù lucidi alle porca madonna ma che volete da un miglioro dentro la navi porco che è successo ah cazzo questo non c'era che ridere ragazzi ok 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 che giornataccio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, io sono pieno. Oh, ma aspetta c'è una chiave per cogliere. Rado fuori? Massimo. Sì. Però vivete. Aspetta che mi arrivo anch'io. No. Lo so dire questo odore? Hai scorreggiato? Io la hacka mi sono pulito. È come se fosse... Lo sapevo. L'ho chiamato? Dammi un po' di... No! No! Mamma mia No Ok Ma dove No è tra Si trova è figa Perché posso farlo anch'io Figa Non ci credo Ma non è possibile Non ridere che avevo oggetti addosso Non ci credo